Oggi purtroppo non inizierò il video. Carico come faccio di solito ragazzi, come faccio praticamente in ogni mio video. Ormai siete abituati al mio classico saluto da parecchio tempo. Perché oggi non faccio la mia solita intro? Perché non sono del mio solito stato d'animo? Partiamo un attimo dicendo un paio di cose precedenti. Questa settimana non avete visto video perché purtroppo sono in un brutto periodo con l'università. Un po' in generale diciamo così. Però l'università mi sta togliendo veramente tantissimo tempo con gli esami. Sto studiando praticamente sempre tutto il giorno. Ho poco tempo praticamente per fare il resto. L'università mi sta togliendo veramente tanto tanto tempo. E questo è il periodo dove voi finite le scuole ma io andando all'università inizio il periodo degli esami. Volevo portarvi comunque tre, due video a settimana ma questa settimana proprio non c'ero riuscito. In ogni caso, oddio, oggi sto registrando che è giovedì. Sì, sto registrando che è giovedì. Voi vedrete questo video probabilmente domenica. In ogni caso, stavo andando a registrare la carriera allenatore con il Newcastle ma purtroppo mi sono accorto di aver commesso un gravissimo errore. Ovvero di aver salvato sulla carriera... aver salvato la carriera giocatore con il nostro menzolino sulla carriera con il Newcastle. Purtroppo sono sempre stato abituato a fare doppi salvataggi e questa volta con la carriera con il Newcastle purtroppo non l'avevo fatto. Non so perché. Non so perché non avessi fatto un doppio salvataggio. Sta di fatto che... Cane di merda. Sta di fatto che, ragazzi, il salvataggio della carriera giocatore si è sovrascritto al salvataggio della carriera con il Newcastle. Sono andato nelle impostazioni della console, della PlayStation, per vedere se riuscivo a recuperare qualcosa ma non c'è niente da fare. Non c'è neanche un caricamento, non c'è neanche un autosalvataggio, non c'è niente che si sia salvato sulla PlayStation. Quindi, non so, forse era destino perché di solito sul PlayStation Plus si salvano alcuni salvataggi. No, questa volta zero. Zero. Non c'è niente che io possa fare, ragazzi. Non c'è un salvataggio... non c'è mezzo salvataggio. Non c'è neanche un salvataggio della prima metà di stagione che magari ricominciavo, cercavo di far andare le cose più o meno come erano andate e provavo a ricostruire questa carriera con il Newcastle. Invece io, ragazzi, sono... sono... non so cosa fare. Non so cosa fare, perché la carriera giocatore c'è. Però tutto quello che avevo costruito con il Newcastle non c'è più. Voi potreste pensare, vabbè, dai, mezzo, è solo un gioco, solo una carriera. È vero. È vero. Ma voi vi rendete conto, quando io faccio video, quanto di me stesso metto all'interno di questi video? Quanto di me stesso ho messo una carriera allenatore con l'Inter e quanto di me stesso avevo messo una carriera allenatore con il Newcastle, ragazzi? Ci avevo messo tutta la passione del mondo per cercare di portare questa carriera ad alti livelli. Una carriera con il Newcastle non è facile da gestire, secondo me, e io la stavo facendo in maniera ottimale, secondo me. Secondo il mio modesto parere è secondo i vostri commenti. Quindi, ragazzi, innanzitutto vi chiedo scusa. Vi chiedo scusa perché... perché queste cose non devono accadere. Non devono accadere perché così si interrompe questo ciclo, purtroppo. Voi capite che non posso iniziare la carriera con il Newcastle. Capite che non posso iniziare la carriera con il Newcastle perché è una squadra che va costruita di nuovo da zero e probabilmente non c'è neanche il tempo. Non so neanche se la PIL potrebbe essere lo stesso. Cioè, se io domani iniziassi la carriera con il Newcastle, probabilmente non... Molti di voi non la seguirebbero perché ormai sa di già visto. E questo mi dispiace tanto perché volevo portare il Newcastle ad alti livelli. Ragazzi, mi dispiace. Mi dispiace tanto che sia successa questa cosa. Veramente non... Sono rimasto scioccato, sono rimasto basito, sono rimasto veramente impietrito. E anche adesso sto parlando un po' con il Magone perché avevo costruito una bella squadra. Avevo costruito una bella squadra con giocatori che non tutti utilizzavano. Ed è veramente un peccato. Spero che voi abbiate capito la situazione, ragazzi. Che sono veramente disperato e non so più come comportarmi adesso con i video. A parte la carriera giocatore. Volevo portarvi comunque un'altra carriera allenatore. Non con il Newcastle a questo punto. Perché veramente... Probabilmente non c'è il tempo. Con il Newcastle avrei fatto tre stagioni. E adesso forse non c'è il tempo per riniziare e fare tre stagioni. Anche perché iniziano l'estate e voi magari non avete neanche tutto il tempo da perdere per vedere i miei video. Quindi ho pensato di iniziare un'altra carriera allenatore, ragazzi. Ma con un'altra squadra già più... Abbastanza messa bene, diciamo così. Già più costruita. E caviamo la Premier League, caviamo la Serie A, avevo visto che nella votazione del video precedente dove vi chiesi di votare il campionato dove fare la nuova carriera allenatore, la seconda classificata era la Liga BBVA. E in tantissimi mi avevate consigliato di fare la carriera con il Siviglia. Non mi dispiacerebbe sinceramente andare in Liga e quindi mi piacerebbe iniziare una carriera allenatore in Liga. Però con una squadra abbastanza, diciamo, già pronta. Quindi ragazzi, pensavo... Quindi ragazzi, vi metterò nel link in descrizione, nei commenti, lo Stropol per votare. Vi do tre scelte però. Dato che non volevo fare una Liga con il Real Madrid o il Barcellona o l'Atletico Madrid, ho pensato alle tre squadre che stanno un po' nella via di mezzo. Quindi il Siviglia, il Valencia e il Viglia Real, ragazzi. Votate una di queste tre squadre. Se no, consigliatemi sotto nei commenti come comportarmi. Se nel caso, ragazzi, lascerò anche l'opzione ricominciare una carriera con il mio Castle. Però non saprei come fare. Eravamo arrivati all'episodio 13. E ricominciare sarebbe, secondo me, brutto. Magari nella nuova carriera posso andare a riprendere qualche giocatore che mi era utile. E questo potrebbe essere un buon compromesso. Nel senso, magari uso il Siviglia, compro Miasga e Correa. Una roba del genere. O Miasga e Baciuai. Così da avere comunque dei giocatori della vecchia carriera ormai persa. Io non so neanche se sto parlando italiano corretto. Non so neanche se sto tenendo il filo del discorso. Ragazzi, mi affido a voi. Veramente, sotto questo video mi piacerebbe leggere commenti positivi. E non insulti perché mi ferirebbero molto. Perché sono già molto abbattuto. Non è un bel periodo questo. E questa cosa non ci voleva. La carriera allenatore era l'unico sfogo. Quindi mi piacerebbe che voi prendeste una decisione importante per me. Perché io non ce la faccio. Va bene ragazzi, avete capito la situazione. Non lo so. Non so cosa fare ragazzi. Datemi dei consigli sotto nei commenti perché... Perché ne ho bisogno. Non so cosa fare ragazzi. Non so. Ё愛ano.